E' un'escalation anche sotto questo punto di vista, è chiaro, perché poi nel corso degli ultimi anni mi sono trovato a allenare giocatori forti, giocatori molto forti nel Cessi e qui si va a livello superiore, non è un giocatore sopra, quello molto forte, ma si va al top del mondiale. Quindi è un'emozione, è un ragazzo che ha quasi tutti i record che si possono avere nel calcio mondiale, mi piacerebbe fargli abbattere qualcun altro, che perlomeno per uno dei suoi tanti record io ho inciso qualcosa, quello mi piacerebbe. E arrivo con scetticismo come dappertutto, arrivo a Empoli dalla Serie C e quindi sono tutti scettici, arrivo a Napoli da Empoli e sono tutti scettici, arrivo a Celsi dal Napoli e a Celsi sono scettici. Arriva l'avvento da Celsi e penso che il salto potrebbe essere anche meno scatenante in scetticismo, però vengo dalla storia mia, quindi vengo dall'altra parte e anche giusto ci sia un minimo di rancore e un minimo di scetticismo in questa fase. Poi io nel calcio conosco un solo modo di togliere lo scetticismo dalla testa della gente, vincere è convincere.